Ben ritrovati a Sinergie Day, benvenuti da Diego Caponigro. Finalmente io non vedevo l'ora di iniziare e ritrovarvi tutti quanti ad un evento davvero speciale, siete in tantissimi che ci state guardando, sono davvero molto molto felice. Allora, vorrei ringraziare Gerardo perché mi ha dato un compito veramente difficile, veramente arduo, quello di commentare un sondaggio, un'idea bellissima che ha avuto Gerardo insieme a quelli di Casa.it, geniale, ma non è un sondaggio qualsiasi fatto così a caso, hanno dato in mano uno strumento molto molto particolare agli agenti mobiliari, quasi paranormale, una bacchetta magica e allora io voglio commentare i risultati di questo sondaggio insieme al direttore commerciale, direttore delle vendite di Casa.it, Giorgio Ferenaz, qui al mio fianco. Ciao Giorgio, benvenuto. Grazie Diego, grazie. Allora Giorgio, io ho parlato di un sondaggio davvero speciale, quindi adesso hanno delle aspettative altissime. Ci vuoi spiegare l'idea da dove arriva e il perché? Assolutamente, si parla sempre di andare oltre quella che è la realtà per capire il futuro e noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo interrogati, siamo in un momento molto importante che è appunto una trasformazione digitale che sta investendo il nostro mercato e a questo si è aggiunto anche un momento difficile che stiamo vivendo, quindi ricco di incertezze, ricco di preoccupazioni e quindi ci siamo proprio chiesti le agenti immobiliari, i nostri clienti, i nostri colleghi, cosa farebbero in questo momento se avessero una bacchetta magica? E la cosa migliore è stata chiederla loro e quindi l'abbiamo rivolta loro questa domanda. Infatti abbiamo fatto questo sondaggio su un campione di circa 300 nostri clienti che si basava proprio su queste logiche, dare a voi la possibilità, avendo la bacchetta magica, di capire cosa si potrebbe muovere. Se avessi la bacchetta magica, ripercorre anche un altro sondaggio che abbiamo fatto diverse settimane fa verso i nostri utenti, che era la casa che vorrei. La casa che vorrei ci ha mostrato come gli utenti, in questo momento proprio anche ancora più di difficoltà, hanno urlato una necessità, una necessità di cambiamento anche da parte loro e lo vediamo anche dai dati che ogni giorno registriamo sul portale Casa It. Infatti quello che abbiamo visto è stato un cambiamento proprio nelle ricerche, sia dalle tipologie. Vediamo ad esempio che le ricerche, la domanda dei trilocali, soprattutto delle grandi città, Milano, Torino, sta crescendo e sta crescendo talmente tanto, a discapito proprio dei bilocali, da avere ora una domanda maggiore dell'offerta. Il sondaggio, i nostri utenti l'hanno detto chiaramente, stanno cambiando il modo di cercare casa. Cercano più spazi, cittadini, cercano aree verdi, cercano di allinearsi al loro stile di vita e questo è anche legato a che cosa? Alla possibilità e alla volontà anche di uscire dai centri cittadini. Pur di avere una stanza in più per lavorare, perché sempre di più si lavora in casa, pur di avere la vicinanza ai propri hobby, la ricerca quindi di parchi, sono disposti a uscire dal centro, è un po' un'inversione che vedevamo, lo vediamo proprio nelle ricerche che fanno, si riduce un po' la ricerca sui bilocali e aumenta quella sui trilocali. Queste ricerche seguono anche una logica che sta cambiando sia nelle generazioni attuali che in quelle che vengono. La ricerca della casa non è più legata a dei fattori oggettivi e classici o almeno non è più solo quella, non basta più solo il budget che chiaramente è fondamentale nelle ricerche, è anche la prima domanda che poniamo sempre agli acquirenti. Ma cercano anche di allineare i propri stili di vita, cercano appunto la vicinanza ai parchi per tutti i runner che ci sono, la vicinanza alle metri, ai mezzi pubblici proprio nella necessità di cambiare il loro modo di lavorare e di vivere, sempre di più si vuole ridurre l'utilizzo della macchina, l'utilizzo di altri mezzi privati a vantaggio, nelle grandi città soprattutto, di mezzi pubblici di movimentazione. Sono queste le nuove ricerche che spostano i nostri utenti. Nella stessa logica appunto abbiamo chiesto ai clienti se avessero la bacchetta magica come vorrebbero intercettare questa nuova domanda. Però direi di iniziare un po'... Infatti ti volevo chiedere Giorgio, l'idea è bellissima, a me è piaciuto tantissimo. Io della verità sono rimasto molto molto sorpreso dai risultati, per certi versi, per altri no. Volevo sapere tu cosa ne pensavi? Allora, credo che il tema di sinergia abbia preso in pieno. Digital transformation, trasformazione digitale, come ha detto Paolo, è un momento che non segue solo le tecnologie, ma segue un approccio verso un nuovo mondo, segue una nuova comunicazione, segue la necessità di integrare tutte queste realtà in una nuova omnicanalità. Quindi non ci deve essere più appunto una differenza, la realtà e il digitale, ma ci deve essere sempre di più questa integrazione nell'obiettivo comune di raggiungere sempre i propri clienti nel comunicare e nel raccontare con maggior qualità. Perché quello che viene sempre più richiesto anche dagli utenti è proprio questa, la qualità. La qualità. Voi avete fatto dei cambiamenti importanti all'interno di Casa.it, vero? Come sei bene, sì. Sosteniamo i clienti, gli agenti immobiliari, non solo con la tecnologia, ma anche con altri mezzi che gli permettono di arrivare sempre più vicino e sempre più diretti ai loro accudenti. E la qualità del contenuto è un punto fondamentale. È fondamentale. Senti, commentiamo insieme la prima domanda. Però prima volevo dire a chi ci sta guardando in questo momento che potete farci le domande anche voi. Io le leggerò, vediamo se alla fine dell'intervento riusciamo a leggere le domande e sono davvero curioso di capire un attimino i vostri commenti quali sono. Iniziamo con la prima, Giorgio? Partiamo. Andiamo. Prima domanda. Risultati del sondaggio, presentati ovviamente da noi due, ma poco conta. Vediamo qual è la prima. Se avessi la bacchetta magica, renderei la mediazione obbligatoria per legge, ridurrei il numero degli intermediari, introdurrei i crediti formativi per continuare a esercitare la professione. Mi sembra un po' di essere all'Oscar. The winner is... Ci stupiranno? Ah, cavolo. Allora, sì, sì, assolutamente sì. Ridurre il numero degli intermediari 15%, crediti formativi 37% e rendere la mediazione obbligatoria per legge 49%. Giorgio, Giorgio, cosa ti pensi? Allora, da un lato sono scioccato e dall'altro sollevato. Sono sollevato dal fatto che in pochi ambiscono a un'eliminazione di massa, intanto. E già questo è positivo. Sono abbastanza contento della percentuale dell'introduzione di crediti formativi, perché chiaramente è proprio la logica per continuare ad andare verso la qualità. Quello che però effettivamente mi sciocca è che nella logica, avendo la bacchetta magica, avendo la possibilità effettivamente di migliorare, di semplificare il proprio lavoro e soprattutto l'arrivo, il contatto verso i clienti, si cerchi di chiudersi a quello che si è adesso. Questo un po' mi Giorgio, perdonami, però rendere la mediazione obbligatoria per legge non è possibile. Diciamo che non conviene a nessuno. Non conviene, ma se ci pensiamo in nessun mercato, ormai i mercati tendono sempre di più ad aprirsi. È la differenza, lo fa proprio il contenuto e l'offerta che si dà al servizio. Certo. Quindi io penso che la formazione, ma sia per il proprio lavoro, sia per oggettivizzare appunto il proprio lavoro come punto di riferimento. Come diceva prima Rudy, io entro in un'agenzia non per cercare la casa, ma per trovare qualcuno che mi assista nel trovarla. Ed è questo che è la strada che, ora è 37, ma sono sicuro che negli anni crescerà. Ma di formazione, tu, cosa ne pensi della formazione del mondo dell'agenzia immobiliare? Sì, perché tu vivi più di me. Io sono convinto che la formazione è stata giusta, però io lo chiedo a te perché ci vivi dentro tutti i giorni. Grazie innanzitutto, come sapete, io sono ambasciatore NAR, che è l'associazione degli agenti immobiliari americana qua in Italia, che è presente in 85 paesi, conta più di 1.400.000 agenti immobiliari in tutto il mondo e si basa proprio su due cose. Il concetto è il codice etico condiviso, ovviamente, che tutela i clienti degli agenti immobiliari e la formazione. Perché? Quindi esistono tanti percorsi, loro richiamano designazioni, che sono dei corsi, un po' come se fossero le stellette, i gradi militari che loro mettono sulle giacche. Questo perché, per il motivo che dicevi tu prima, perché l'unico modo per distinguersi sul mercato è quello di crearsi delle elevate competenze. Questi corsi sono, come vi ho detto, riconosciuti in 85 paesi al mondo e quindi, di conseguenza, sono, tra virgolette, i corsi standardizzati a livello mondiale i migliori che ci sono in questo momento. Poi, soprattutto, arrivano dagli Stati Uniti e sappiamo che gli Stati Uniti sono un po' più avanti rispetto a noi su tanti temi. E quindi, sì, sono d'accordissimo con te. Crediti formativi negli Stati Uniti, ad esempio, mi viene in mente che l'agente immobiliare ogni due anni deve comunque fare un esame per mantenere l'accesso alla professione. quindi deve studiare e andare avanti a studiare nel corso della sua carriera professionale. Ovviamente c'è un esame preparatorio per diventare agente immobiliare che, tra l'altro, non è semplicissimo. Ancora di più se si diventa broker. Ci sono dei requisiti ancora più importanti. Quindi, assolutamente, con me sfondi una porta aperta. Io credo, Giorgio, che l'ultima risposta, il 49%, la vedo un po', non so cosa ne pensi tu, un po' anacronistica. Sì, allora, un po' come dicevamo prima, attualmente nel mercato non è possibile. È anche un po' pigra, se posso. È anacronistica perché attualmente, appunto, le limitazioni di legge, anzi, con tutte le ultime leggi che abbiamo visto che hanno aperto i mercati, non potrà più ripartire. Ma, appunto... È vero che la legge che regola la professione degli agenti immobiliari è un po' vecchiotta, bisognerebbe riformarla. Questo è vero. Però, giustamente, come hai detto tu, perché invece di renderla obbligatoria per legge non si mettono dei crediti formativi per, appunto, rinnovare l'abilitazione. Adesso magari i miei odieranno perché... Però, in un certo senso... No, no, ma è vero. Ma già tutti gli agenti, tutti i principali professionisti già si formano, già lo fanno di per sé. Questa sarebbe una certificazione aggiuntiva della loro qualità, dell'importanza di avere un punto di riferimento formato e competente. Anche perché in altri settori, altre categorie, hanno già i crediti formativi da diversi anni, da tanti anni, quindi non vediamo il motivo. No, infatti. Va bene. Possiamo procedere, Giorgio? Andiamo a vedere la prossima. Sono curioso. Non vedo domande, oppure sì. Adesso do un'occhiata anche al tablet. Seconda domanda. Se avessi la bacchetta magica, farei scomparire... Questa è bellissima. Farei scomparire le piattaforme di mediazione digitale, le agenzie immobiliari di derivazione bancaria... Sorrido perché siamo rimasti un pochettino indietro qua. Gli abusivi della mediazione. Oh, fantastico. The winner is... Temo di sapere la risposta, ma ne sono abbastanza ok. Gli abusivi della mediazione, 74%. Beh, qua. Qui però... Insomma, diciamo che hanno pienamente ragione gli agenti immobiliari. Ma forse ritorniamo un po' anche alla domanda precedente, cioè il fatto di creare un percorso qualificato, professionale. Sì, credo che si confermi un po' la logica anche vista prima. Fortunatamente le piattaforme di mediazione digitale è la voce meno scelta. L'agenzia di immobiliari di derivazione bancaria, dal mio punto di vista, sono agenzie vere e proprie, alla fine, che si appoggiano a una realtà diversa. Gli abusivi della mediazione, effettivamente, ma anche dal punto di vista di acquirente e venditore, sono un problema. Ma da che punto di vista? Non garantiscono la qualità che può garantire un agente abilitato. E ancora di più, appunto, una certificazione, la possibilità di formazione, l'attenzione sulla qualità, che dicevamo prima, noi cerchiamo di sostenere e supportare con indicazioni, sono la strada per tutelare il mercato e, in un certo senso, escludere in automatico gli abusivi. Perché la differenza tra un agente immobiliare e un abusivo deve emergere. L'utente e il cliente e l'acquirente è sempre più informato, è sempre più esperto, se ne rende conto di questa differenza. Quello che conto è il percepito dell'utente finale. Sì. Dal mio punto di vista sì, perché è il nostro mercato, è colui che appunto ci sceglie, perché sceglie prima noi per affidarsi alla casa. Ricordiamo che l'acquisto della casa, in molti casi, avviene uno o due volte nella vita. Ed è un momento fondamentale. Delicato anche. Delicato. Ricco di rischi, se ci pensiamo. Ci sono tante di quelle conoscenze legali, strutturali, da sapere, che una persona non può avere e per questo si può affidare. E un abusivo della mediazione, da questo punto di vista, viene escluso, proprio perché non può garantire questa qualità. Dai, da questo punto di vista, come ti approcci al mondo? Io sono d'accordo con gli abusivi della mediazione, ma ripeto, ci ricolleghiamo un po' alla domanda precedente, quindi andrai oltre. La piattaforma di mediazione digitale mi ha incuriosito, perché l'avete messa nelle opzioni. Sicuramente qua, e mi ricollego anche un po' a quello che scrive Fabio Burlando, nelle domande, che appunto parla di mediazione di parte. Sicuramente la mediazione digitale, in qualche maniera, sta cambiando le regole del gioco. Non lo vediamo solo qui, lo vediamo anche negli Stati Uniti, dove la stessa NIR sta iniziando ad avere dei problemi per il riconoscimento delle provvigioni delle parti. Questo è emblematico. Sono già più avanti di noi, stanno già incontrando nuove difficoltà. Nuove difficoltà, proprio perché già lì, sono arrivati da diverso tempo, già le agenzie di mediazione digitale. Qua in Italia, ormai sarà due anni che ci sono, credo, ma comunque in qualche maniera sono destinati un po' a minare, cambiare le regole del gioco da questo punto di vista, e introducendo quello che dice Fabio, Fabio Burlando online, la mediazione di parte, che in Italia non viene fatta. No, abbiamo un mediatore, se ci pensiamo dalla parte di acquirente, di venditore. Le piattaforme, dal mio punto di vista, sono un'aggiunta. Stanno nascendo adesso come, chiaramente, strutture indipendenti che sono in grado di garantire tutto il funnel, tutto il flusso, ma per qualsiasi agente immobiliare, se ci pensiamo, la piattaforma di mediazione digitale, come potrebbe essere anche, già 10-20 anni fa, in un certo senso, nell'antecedente, l'MLS, che cercava appunto di aggiungere uno strumento in più per sempre dare soddisfazione a chi cerca, ai nostri clienti, all'utente, di semplificare, di aumentare quelle che sono le possibilità e le opportunità. Quindi, io credo che, appunto, questo dimostri quanto che, anche se da poco tempo la mediazione digitale è sul mercato, non venga vista come un problema, ma venga vista proprio come un supporto cui studiare, conoscere ed entrarci. Assolutamente sì. Le agenzie immobiliari di derivazione bancaria, sinceramente, quando l'ho vista, mi sono messo un po' a sorridere, perché c'è qualcuno che nel corso del tempo ha creato il mostro, e invece poi questo mostro, come del resto anche in Europa, ma anche in altri paesi, si è sgonfiato in maniera naturale, direi. È un passaggio un po' logico nel mondo bancario, ricco di immobili e tutto il resto, di creare una derivazione immobiliare, appunto. Ricordo, dal mio punto di vista, sono agenzie immobiliari a tutti gli effetti, formate da agenti immobiliari abilitati, strutturate, anzi, le banche da sole non hanno potuto, se sono riuscite a creare questa, è perché hanno acquisito le competenze, prendendo proprio, lasciando lo sviluppo ad agenti immobiliari. Assolutamente sì. Sono d'accordissimo con te, non abbiamo tantissimo tempo, ma giusto velocemente, Armando Sacco, che saluto tra l'altro, ci dice che manca l'MLS come opzione in queste slide, però non è far scomparire in questo caso l'MLS, ma farlo comparire all'interno dei processi produttivi degli agenti immobiliari, quindi in agenzie immobiliari. Quindi andiamo oltre, andiamo oltre, è una battuta ovviamente la mia. Se avessi la bacchetta magica, ultima domanda, vorrei sapere chi saranno i miei clienti di domani, come essere più visibile nel mercato, cosa devo cambiare per garantire produttività alla mia azienda. Oh, fantastico, bellissimo, mi è piaciuta tantissimo questa bacchetta magica. Vediamo quali sono i risultati. The winner is, cosa devo fare per garantire la produttività alla mia azienda. Giorgio. Beh, allora, tra le domande, tra le risposte, ci sono punti di sollievo. Come essere più visibile nel mercato è una voce molto bassa. Sono contento perché vuol dire che Casa.it fa bene il suo mestiere, che la visibilità è già alta. Come devo cambiare per garantire produttività alla mia azienda è chiaramente la voce più alta. Sì, ma qua potremmo rimanere ore e ore e ore a parlare di questo tema. Sì, e dall'altro lato mi stupisce un po' la dicotomia tra l'ultima risposta e la prima. Perché una delle fasi di cambiamento per garantirti produttività, magari non oggi, ma continua nel tempo, è proprio iniziare a pensare a chi saranno i miei clienti di domani. Sono d'accordissimo. Mi dispiace che sia così bassa, perché proprio è una delle migliori strade. Anzi, per rispondere a quello che ha detto prima Paolo Iabichino, perché gli stavo pensando anch'io, dalla A alla V, ok, di vendita. Ma la Z, cos'è? L'ha tirato fuori prima Rudy, secondo me, la Z, che è la Z di Generation Z. Fra 5 anni, 10 anni, i nostri clienti, i nostri acquirenti diventeranno quei ragazzi che oggi usano un linguaggio diverso. Non vanno su Facebook perché è per 50 anni. Hanno un vocabolo dei toni diversi. Noi però, a malapena sappiamo dove sono e ancora non abbiamo iniziato ad interagire. Questo, secondo me, è il punto più importante che adesso dobbiamo andare a vedere. Come ottimizzare la redditività? Dobbiamo guardare nel futuro. Stiamo parlando di digital trasformazione. Però attenzione che i clienti di domani non aspettano solo delle tecnologie, perché la tecnologia per i clienti di domani è già integrata nella loro vita. Non si aspettano di vedere nell'agenzia un modo di comunicare e sui social, attraverso di digital marketing, attraverso tutti gli altri canali, in un modo diverso. Perché per loro è omnicanalità. Quello che trovano nella realtà è la stessa cosa che trovano nel digitale, perché il digitale è realtà. E quindi in questo caso, secondo me, dove vedo che ci sarà molto da lavorare e ne sono molto contento, parlare proprio con i clienti di domani sarà un modo per garantire la produttività, ma anche di adesso. Senti, punto 2. Come essere più visibile nel mercato? È un buon punto. Allora, anche qui sono contento da un punto di vista che le agenzie già adesso abbiano una visione chiara di come essere visibili, se mettono questo. Negli anni, chiaramente, le agenzie supportate dai portali, ma anche con la formazione, perché è quello che gli ha dato la possibilità di essere più visibili, hanno capito, secondo me, dove essere visibili. Il passaggio che deve essere è fatto adesso, perché la visibilità non la dà soltanto la voce, ma la dà la ricerca della persona. Quindi, sempre di più il mondo di chi ricerca punta al contenuto e alla qualità. Quindi, essere più visibile nel mercato, secondo me, torniamo al punto precedente. Dobbiamo puntare sulla qualità e sulla formazione. Perché? Dopo ti chiedo che novità ha a casa.it nel prossimo imminente futuro. Io ti faccio concludere su questa slide, perché non abbiamo tantissimo tempo. Hai detto proprio correttamente. La strada è proprio questa adesso. Dobbiamo supportare nel punto di essere visibili, ma non di aumentare la diffusione, aumentare i canali, ma ottimizzare la comunicazione che facciamo, rendere più frequente un contenuto di interesse e di qualità per l'utente. Questa è proprio la strada che vogliamo seguire, su cui supportiamo anche sempre i nostri clienti. Vuoi fare una chiusura sull'ultimo punto? Cambiare e garantire la produttività. Cosa è che non va nell'agenzia immobiliare adesso? Secondo me, non è che c'è qualcosa che non va, ma come sempre c'è un'overinformazione anche. Perché noi diciamo appunto comunicare, comunicare con qualità, e lo fanno tutti, però c'è overinformazione sul mercato. La difficoltà secondo me per l'agenzia adesso è prendere appunto queste informazioni. Si parla di big data, big appunto. C'è troppa informazione a volte. Se non si hanno gli strumenti, la decodifica, la competenza appunto di qualcuno che sappia filtrare queste informazioni, ma soprattutto trasformarle per applicarle, non si riuscirà mai a trovare uno spinto di aumento della produttività. Quindi la logica è proprio quella. andare a intercettare le informazioni giuste per applicarle. Bellissimo. Allora, prima di chiudere, volevo salutare chi ci ha fatto le domande, Alex Foglino, Vito Antonio Spinelli, Armando Sacco, Luciano Pavone, Rossella Consolini, Libero Ranaldo, eccetera. Io però vorrei rimandare, Giorgio, coloro che hanno fatto queste domande, delle risposte che poi daremo in seguito perché veramente richiedono delle risposte molto molto articolate e argomentate, quindi non possiamo in questo momento abbiamo veramente pochissimo tempo. Ultima domanda, ti ho anticipato prima, quali sono le novità di Casa.it? So che ne avete. Casa, sì, chiaramente siamo un portale ma siamo anche un partner tecnologico e formativo e appunto su questo una delle più grandi novità di adesso è appunto il focus che abbiamo sulla qualità dei contenuti. pensiamo che creare una conoscenza e una competenza attraverso i workshop e i webinar che facciamo ormai sono diventati webinar per il periodo un po' meno workshop e essendo consapevoli di tutte quelle che sono le dinamiche che stanno anche dietro semplicemente a un piccolo testo scritto questo per far sì che cosa? Per far sì che cosa che dall'altra parte ci sia appunto la possibilità di cogliere quello contenuto con interesse perché noi stiamo comunicando a qualcuno che deve leggere non conta quello che tu dici ma conta quello che l'altro capisce conta con l'altro che viene stimolato e quindi quello che stiamo facendo adesso è appunto questo abbiamo ottimizzato il nostro algoritmo di ricerca puntando sempre di più sulla qualità supportiamo i nostri clienti su questo spieghiamo cos'è la qualità perché è facile dire qualità ma cos'è la qualità per un portale? Basta entrare in casa e lo si scopre. Io voglio ringraziare ovviamente casa.it per questa bellissima idea del sondaggio mi è piaciuta tantissimo e spero sia piaciuta tantissimo anche a chi ci sta guardando gli aggetti immobiliari so che sono in tantissimi Giorgio grazie per essere stati con noi grazie a te io vi rimando a dopo più tardi rimanete qua sempre con noi Sinergy Day a tra poco grazie ciao a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti